2.000 persone in un solo giorno e in un solo cinema. Tutto questo per l'ultimo capitolo di Star Wars, il risveglio della forza, uscito ieri anche in Italia. E Star Wars mania anche sull'ario, una mania evidente fin dalle prime ore di ieri mattina con un centinaio di appassionati della saga presenti alla primissima proiezione delle 11 eventi a luci cinemas di Montano Lucino, che in un solo giorno appunto ha staccato 2.000 biglietti per l'ultimo capitolo di Guerre Stellari. Una saga capace di conquistare intere generazioni e di generare un esercito di Star Warriors pronti a tutto. Tra loro anche il sindaco di Cantù, Claudio Bizogero, protagonista ieri sera di un singolare siparietto. Prima della proiezione al cinema lux di Cantù, infatti, Cinelandia ha organizzato una dimostrazione di Light Saber, particolare disciplina sportiva in cui il combattimento viene condotto con spade laser in pieno stile Star Wars. Accantonate per una sera le battaglie politiche, il primo cittadino canturino è tornato bambino e benché senza maschera o armature ha impugnato la spada per sfidare uno dei suoi figli. Avevo 11 anni ed ero qui nello storico lux per il primo episodio della trilogia, ora sono qua con i miei bambini, ha scritto il sindaco su Facebook. Noi allora le spade laser le vedevamo solo in video, loro oggi ci giocano.